Anno 1216, è notte, San Francesco immerso nella preghiera presso la Porziuncola. Improvvisamente nella chiesina una luce abbagliante e sopra l'altare il Cristo e la mamma sua circondati da una moltitudine di angeli. Il Dio della Misericordia chiede al Santo del Cantico delle Creature cosa desideri per la salvezza delle anime. Pronta la risposta del piccolo Francesco. Ti prego che tutti coloro che pentiti e confessati verranno a visitare questa chiesa ottengano ampio e generoso perdono con una complessa remissione di tutte le colpe. Quello che tu chiedi, o frate Francesco il Grande risponde il pane di vita, ma di maggiori cose sei degno e di maggiore ne avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, ma patto che tu domandi al mio vicario in terra da parte mia questa indulgenza. Una promessa che ha così condotto il Santo di Assisi a presentarsi al Pontefice, un offrio terzo che dà così la sua approvazione al disegno di Dio. Alla domanda Francesco per quanti anni vuoi questa indulgenza? Il Santo risponde, Padre Santo non domando anni ma anime. E' felice il 2 agosto 1216 insieme ai Vescovi dell'Umbria annuncia al popolo convenuto alla Porziuncola Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in paradiso. Due giorni in cui per speciale concessione divina, quindi, l'uomo può godere di questo specialissimo dono ottenuto per intercessione di Francesco, l'indulgenza. Ovvero la remissione della pena temporale dei peccati commessi e perdonati quanto a colpa dal sacerdote con la confessione. Ogni fedele in primis può applicare questo grande dono a se stesso o ai defunti. Dal mezzogiorno del primo agosto alla mezzanotte del 2 si può quindi lucrare una volta l'indulgenza plenaria. Ma quali le condizioni? Visita ad una chiesa cattedrale o parocchiale o ad altre che ne abbia l'indulto e recita del Padre Nostro e del Credo. Confessione negli otto giorni precedenti o seguenti, partecipazione alla Santa Messa e comunione eucaristica. A concludere una preghiera secondo le intenzioni del Pontefice ed infine la disposizione d'animo che escluda ogni affetto al peccato. Un dono, quello che si rinnova in questo 2016 con la festa del perdono che assume particolare bellezza nell'anno della misericordia. Un intero anno in cui il Dio della vita accorda grazie a particolari favori ai figli suoi penitenti perché ama profondamente la creatura per cui ha dato la vita. Una due giorni quindi in cui guadagnarsi il paradiso.